Cercherò di stare dentro i due minuti di orologio. Risposta sulla norma penale, open-ended clauses. In Italia nel diritto penale sono vietate. Nel diritto penale, in criminal law, nel diritto penale hai l'obbligatorietà di specificare con chiarezza e in modo determinato i comportamenti che costituiscono offesa penale. Perché se lasci aperta la norma penale poi puoi essere accusato per qualsiasi cosa. Quindi è un principio di civiltà giuridica che dice che il reato va descritto precisamente. Seconda cosa, io vi invito anche a non cadere nel tranello del denial, cioè del negare la realtà. Perché io penso che davanti a queste cose avere delle ricostruzioni consolatorie, per cui sul fatto che noi siamo un paese di tradizione accogliente, di tradizione umanitaria e inclusiva, questo significa negare i problemi, penso che non sia nell'interesse di nessuno. E quindi se due persone vi hanno detto quelle cose, io penso che valga la pena, al contrario di quello che dice il collega Carelli, di guardarci dentro. Anche perché il problema qual è, e lo dico al collega Romaniello, non è il problema del figlio del politico che tira un uovo. Il problema è quando il capo del partito politico fa una legge che il collega Romaniello ha votato, come il decreto sicurezza, nel quale noi abbiamo abrogato i permessi umanitari. Quindi in Italia non esiste più il permesso umanitario praticamente. I migranti che arrivano vengono buttati in mezzo alla strada perché il Parlamento dice che il permesso umanitario non esiste. Quando si è discusso dello svuotamento di questo centro di Castelnuovo di Porto, un partito politico davanti alla denuncia di una sofferenza ha applaudito in aula. Aggiungo un'altra cosa, sempre perché sono figure politiche importanti. Un senatore del Movimento 5 Stelle ha recentemente citato i protocolli dei savi di Sion e nessuno del Movimento 5 Stelle ha chiesto le sue dimissioni, così come nessuno ha chiesto le dimissioni del senatore Calderoli da vicepresidente del Senato. Allora si dice noi prendiamo atto della condanna e lo rifiutiamo, ma non basta rifiutare. Devi dire sei il vicepresidente del Senato, non puoi essere più il vicepresidente del Senato se sei stato condannato per quello. Le curve calcistiche dentro gli stadi di calcio ci sono grandi fenomeni di razzismo. Il nostro ministro degli interni ha recentemente detto che le partite non vanno sospese, cioè che se un calciatore di colore viene fatto oggetto di grida razziste dagli spalti, dal pubblico, non bisogna sospendere le partite. Onorevole, mi scusi, deve concludere, devono andare via. Si comprendete che quando i messaggi arrivano non da ultime persone, ma da leader politici che hanno incarichi di responsabilità come senatori, vicepresidente del Senato e ministri degli interno, la cultura viene ovviamente plasmata allo stesso modo. Deve intervenire l'ultimo ospite.